Questa è la storia del loro pianeta. Un pianeta che gli eroi non sono riusciti a proteggere. Con uno sconvolgente colpo di scena, gli eroi hanno perso la battaglia per la Terra. Buongiorno del giudizio a tutti. Siete sotto le leggi del nostro Capo Supremo. Rispettate le nostre leggi e la vostra vita sarà risparmiata. Possiamo dire con certezza che la Terra fa ufficialmente schifo. Il cielo in cui una volta ammiravamo gli uccelli volare. Da azzurro è diventato grigio. Dove una volta giocavano i bambini, incombe il silenzio e sfilano gli eserciti. Dove un tempo trionfavano i grandi leader di questa nazione, ora si erge fiero e domina un cattivo. Ma non tutte le speranze sono perdute. Alcuni stanno resistendo e sono pronti a vendicare la Terra. A riportare la pace che è stata a lungo dimenticata. Loro sono... Wolverine Hawkeye Black Widow e Star-Lord Preparati ad ascoltarli in una dimensione totalmente nuova e a viverli in un modo completamente diverso. È in arrivo Marvel's Wastelanders Su Audible Commenze Am E